C'è tempo fino al 20 maggio per presentare le domande di iscrizione ai nidi di infanzia comunale e alle sezioni primavera per l'anno scolastico 2022-2023. Un tema, quello delle politiche scolastiche su cui l'amministrazione ha deciso di investire per implementare l'offerta delle strutture presenti sul territorio. La procedura è una procedura online, devo dire non è il primo anno e da questo punto di vista devo dire la verità, si sono fatti dei passi avanti per quanto riguarda una semplificazione delle modalità di iscrizione perché come ho avuto modo di ripetere in tante circostanze è indispensabile che le famiglie abbiano una strada facile per poter fruire dei servizi offerti dalle istituzioni. Questa è una delle grandi sfide che noi abbiamo in città, quella di ripartire proprio da un'offerta educativa che sia un'offerta ben strutturata e di qualità e che raggiunga tutti. Chi frequenta una scuola per l'infanzia, un asilo nido, alla fine ha meno probabilità di entrare nel cono d'ombra della dispersione scolastica. Per questo motivo noi abbiamo attivato con l'assessore Filippone un grande sforzo per potenziare i nostri servizi di scuola dell'infanzia e degli asili nido anche utilizzando le risorse PNRR e quindi avremo nei prossimi anni un aumento dei posti. Questa mattina in sala giunta con gli attori Nunzia Schiano e Peppe Iudice è stato presentato lo spot pubblicato sui canali del comune di sensibilizzazione alle iscrizioni. I nidi comunali in città sono poco più di 50. Abbiamo in tutto questo anche aperto un altro fronte importante, cioè abbiamo messo a bando 5 nuovi nidi per la gestione indiretta perché noi non abbiamo il personale, i profili che servono per tenere in piedi i nidi. Penso che quella degli asili nido sia una cosa molto importante in una comunità. I bambini devono cominciare da subito a socializzare piuttosto che tenerli a casa davanti a un video che a volte è quello che succede pur di non mandarli a scuola perché sono troppo piccolini. Io veramente lo consiglio a chi ha il dubbio e ovviamente invece chi non pensa proprio di mandare a scuola i figli. Là il messaggio deve essere ancora più forte, lo dobbiamo fare con la sensibilità giusta perché deve arrivare questo messaggio.